cari amici oggi mi è arrivato un regalo dalla Craft Geek un'azienda che produce treppiedi vediamo di che cosa si tratta ecco qui è un leggio apriamolo insieme in metallo è un leggio portatile devo dire in metallo ma molto leggero molto compatto cosa che di solito i leggii portatili non sono perché non si sa poi mai come portarli veramente in giro ma sembra solido come un leggio diciamo stabile da terra che non è trasportabile allora apriamolo subito vediamo un po ecco così parte qui si svita molto facilmente si ha i treppiedi ok ora proviamo a stenderlo bene si stende con facilità e non ha bisogno di viterelle da girare e cose varie poi si apre qui lo giriamo così perfetto poi apriamo qui sopra le alette questa cosa qui questa è un'idea fantastica guardate qui ci sono le mollettine per tenere i fogli immaginare tutte le volte che suoniamo all'aperto inizia il vento allora io tante volte mi sono ritrovato a dovere iniziare il concerto con il vento e andare a cercare le mollette perché uno si scorda sempre di portarsene appresso invece sono già incorporate nel nostro leggio adesso qui ci sono queste protezioni che togliamo bene veramente molto 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 bello proviamo a posizionarci uno spartito ecco qui giustamente una cosa molto importante si allungano questi queste diciamo tendi pagine perciò anche se avete gli spartiti un po più larghi potete allungarli e trovate sempre la giusta posizione guardate fantastico stabile bello si può si può regolare anche queste queste diciamo questa barra che sarà posteriormente allo spartito perciò veramente noi possiamo posizionare con tranquillità e sono molto 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 stabili bellissime queste mollette veramente utilissime devo dire questo è proprio un leggio 2.0 sapete che la kraft geek ha vinto un riconoscimento al nam di solas angeles del 2024 perciò veramente per aver creato un leggio portatile di nuova generazione devo dire allora insieme a questo leggio mi hanno inviato anche degli altri accessori andiamo a scoprire che cosa sono allora questa qui è una luce vediamo questa si posiziona qui qui sopra perfetto ok e poi è arrivata un'altra cosa che è un porta cellulare o anche ipad che noi possiamo posizionare nella parte inferiore posizioniamo il nostro porta cellulare abbiamo montato tutto adesso la luce a due diverse intensità qui possiamo poggiare il nostro telefonino ipad vedete qui abbiamo le nostre mollette tutto pronto per iniziare a suonare se volete potete anche acquistare il case dove riporre tutto che è molto utile anche perché vedete quanto è bello è anche imbottito leggerissimo imbottito mettete tutto dentro e tranquillamente partite per il prossimo vostro concerto cari amici spero che questa presentazione vi sia stata utile se lo volete acquistare potete andare sulle info e trovate anche il codice sconto a nome roberto fabbri per acquistarlo direttamente in fabbrica dalla craft jig con il 15 per cento di sconto dal prezzo di listino vi mando un saluto e mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube ciao